benvenuti a cittagoradio notiziario del consiglio comunale di torino buongiorno e benvenuti nell'edizione di oggi torino capitale dell'alta formazione i giardini e gli sportivi torinesi questa volta un'intitolazione al calciatore pietro rava arrivano i fondi possono iniziare i lavori per il completamento del viale della spina il bando per la partecipazione a sotto 18 film festival dedicato ai più giovani serve un progetto per rendere torino capitale dell'alta formazione lo ha deciso il consiglio comunale approvando all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la giunta a agire in questa direzione l'atto chiede di coinvolgere università degli studi e politecnico di torino oltre ad altri enti pubblici e privati italiani e internazionali per fare crescere il pollo cittadino dell'alta formazione e accrescere l'immagine internazionale della città il sistema educativo e formativo rappresenta infatti un fattore strategico per la crescita sociale culturale ed economica di torino città già a forte vocazione universitaria e se rafforzato potrebbe attrarre ulteriori investimenti e finanziamenti internazionali oltre che stimolare il turismo congressuale e in generale la promozione turistica della città giovedì 18 giugno l'area verde compresa fra le vie piobesi teodoreto e giannelli nella circoscrizione 9 prenderà il nome di pietro rava campione del mondo con la nazionale italiana di vittorio pozzo ai mondiali di calcio del 1938 la cerimonia di inaugurazione del giardino si svolgerà alle ore 10 30 con la partecipazione dell'assessore allo sport della città stefano gallo viale della spina lunedì 15 giugno la presenza del sindaco piero fassino di graziano del rio ministro delle infrastrutture e di claudio lubatti assessori trasporti infrastrutture e viabilità della città sono stati consegnati alle imprese costruttrici i lotti per la realizzazione del nuovo tratto del viale della spina che da corso vittorio manuele secondo arriverà fino a piazza baldissera il primo lotto prevede la sistemazione in superficie della copertura delle gallerie ferroviarie tra corso vittorio manuele e via grassi con la conclusione dei lavori a porta susa sarà realizzata una nuova carreggiata a tre corsie in direzione di piazza statuto e una carreggiata laterale con banchina alberata e pista ciclabile il costo previsto è di 4 milioni e 700 mila euro il secondo lotto comprende invece gli interventi da realizzare tra via grassi e corso regina margherita completando corso inghilterra e superando piazza statuto sotto la quale sarà aperto il sottopasso per le auto realizzato durante i lavori per le gallerie ferroviarie corso inghilterra sarà completato fino alla piazza statuto e sarà terminato anche il primo tratto di corso principe oddone spesa prevista 8 milioni e mezzo di euro il terzo lotto è finalizzato alla costruzione di un nuovo ponte sulla Dora con un'unica campata in acciaio di circa 50 metri di lunghezza che affiancherà il ponte attuale intitolato area alberto del belgio con due carreggiate principali e una laterale la spesa prevista in questo caso è di 4 milioni di euro per il completamento delle opere si prevede un anno di lavoro la delibera sulla tutela delle aree agricole per nuove vocazioni e la riqualificazione del paesaggio approvata dal consiglio comunale lo scorso 15 giugno offrirà nuove possibilità alle aree agricole cittadine spesso sotto utilizzate e in via di degrado la valorizzazione di queste aree rispecchia una delle vocazioni della città già nel 2012 il consiglio aveva approvato il progetto torino città da coltivare e anche una nuova regolamentazione degli orti urbani ma lo stesso piano regolatore della città del 1995 individuava aree da destinare a parco urbano fluviale e collinare garantendovi la tutela delle attività agricole l'agricoltura con questi provvedimenti diventa così uno strumento di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica oltre che di possibile attrazione in chiave turistica con l'ultimo provvedimento approvato si incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di suolo con il provvedimento si dà anche indicazione alla giunta per l'attivazione della commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste e per la preparazione entro l'anno di una cartografia che individui le aree agricole sul territorio cittadino e il varo di una norma che le tuteli sotto 18 film festival manifestazione organizzata da jace torino e città di torino ha pubblicato il bando per partecipare alla sedicesima edizione della manifestazione che si svolgerà tra il 4 e l'11 dicembre 2015 questo festival cinematografico dedicato ai più giovani è un luogo di incontro e di confronto nato per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati a scuola ma anche una vetrina delle opere di qualità sul mondo dell'infanzia dell'adolescenza e della gioventù attraverso la proposta di proiezioni incontri workshop concorsi extrascolastici e programmi speciali dedicati al cinema giovane l'appuntamento principale del festival è il concorso nazionale dei prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico e dei filmmaker under 18 indipendenti per prendere visione del bando www.sottodiciotto.it termina qui cittagoradio hanno collaborato a questa edizione toni denardo silvio lavalle massimiliano quirico claudio raffaelli direttore remo guerra